Dopo un po' di fila, tocca anche a noi. Vediamo se facciamo presto. Siamo in attesa, sono l'ultimo appena arrivato. Praticamente in tutti i ristoranti il menù è fuori, con i prezzi, si paga. Ovviamente dentro, sono già tutto pronto. Questo è Tokyo, la velocità e l'efficienza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.